L'ospite di questa puntata di ritratti è Jacopo Tagliabue, cofondatore e Chief Technology Officer di Tuso e professore di Machine Learning all'Università di New York. Jacopo Tagliabue, hai fondato una start-up sull'intelligenza artificiale negli Stati Uniti, hai guidato un team di Data Science a New York simulato a computer una civiltà precolombiana, tenuto un discorso accademico sui videogiochi e poi, cito testuale, fatto cose scientifiche che poi ci spiegherai per una squadra di basket professionista. Ecco, da questa descrizione tu sei il classico esempio del talento italiano che però è dovuto immigrare negli Stati Uniti per veder riconosciute le sue potenzialità e capacità. Questo è un vanto o è un rimpianto? Talento, grazie mille, mi sembra anche troppo, però non credo che dovuto sia la cosa corretta. Io ho voluto, fortissimamente vogli andare negli Stati Uniti, ho studiato negli Stati Uniti diverse volte prima di trasferirmi a New York, New York è la mia città totemica, quindi è la mia città ideale, il posto in cui io comunque mi sento a casa. E poi c'è l'aspetto ovviamente lavorativo molto importante, io lavoro in tecnologia e il mercato, insomma la tecnologia americana è molto interessante, c'è un sacco di dinamismo e un sacco di opportunità, ma mi piace molto tornare in Italia, oggi sono qui con voi, torno molto spesso e anzi mi manca molto il mio paese in certi aspetti. Ecco, ti manca molto il tuo paese in certi aspetti, però penso in certi altri no, nel senso che facciamo un confronto Italia-Stati Uniti, soprattutto nel sistema americano si parla tantissimo, viene sempre visto appunto dall'altra parte dell'oceano un po' come il sogno, la terra in cui i sogni prendono forma. Ecco, che cosa c'è degli Stati Uniti, del sistema soprattutto americano, del loro modo di vedere che ti piace e invece un qualcosa che proprio non sopporti? Allora, fare confronti è sempre molto difficile perché l'erba di fianco sembra sempre più verde. Una cosa che a me piace moltissimo negli Stati Uniti e che credo sia ancora vera oggi è il senso di frontiera degli Stati Uniti. Gli Stati Uniti sono ancora davvero in molti aspetti il Wild West, un paese molto più violento nel nostro, non solo per le ovvie battute che si possono fare su una serie di argomenti, ma proprio psicologicamente, nel caso di un paese brutale, di grande competizione, ma dove anche grandi imperi e grandi fortune possono ancora essere costruiti, insomma, letteralmente in, se pensiamo, poco tempo, insomma, Google credo abbia vent'anni, una cosa del genere, ed è insomma una delle aziende che capitalizza di più al mondo. Quindi questa cosa di essere sempre continuamente spinto a essere la versione migliore di te stesso, in qualche senso, per me è una cosa molto affascinante, è una cosa che credo per una persona con ambizioni davvero globali sia straordinaria e credo onestamente che da questo punto di vista gli Stati Uniti offrano delle opportunità anche solo per la scala. Stati Uniti è un paese immenso dove tutti parlano la stessa lingua e non le stesse leggi. Ovviamente in Europa non è la stessa cosa, purtroppo. Quindi ha un sacco di appeal da questo punto di vista. E il difetto? Difetti moltissimi, moltissimi, diciamo, la qualità della vita in media negli Stati Uniti è molto bassa, per una serie di, diciamo, per dollaro speso, la qualità della vita in media è molto bassa, per una serie di cose a cui insomma noi da europei e italiani siamo in qualche modo fondamentalmente abituati a non pensare, che vanno dall'asilo, insomma, all'assicurazione sanitaria, alla disoccupazione, a tutta una serie di cose e poi ovviamente una questione di mentalità. Di nuovo, governano gli Stati Uniti e spesso noi tendiamo a fare questi paragoni come se funziona in Silicon Valley funziona qui o se funziona in America funziona qui. Però gli Stati Uniti sono davvero su una scala completamente diversa e gestiscono una complessità molto diversa dalla nostra. Ci sono tante cose molto, come dire, che della Silicon Valley appunto sono questa sporta di specchietto per la lodole che un po' uno vede nei film o uno legge sul giornale eccetera, però poi quando arrivi in Silicon Valley la vita poi nella verità è molto diversa. In particolare Silicon Valley è un mondo molto chiuso, come tutti i mondi, quindi è un mondo che sembra molto globale dall'esterno ma poi quando vai in Silicon Valley scopri che l'importanza di essere di lì, di conoscere le persone, di avere un network è esattamente tanto importante quanto lo è a Milano o a Parigi o quello che è. Quindi vivere da outside in Silicon Valley, la famosa metafora della persona che con la valigia di cartone arriva dall'Ungheria e va a fare un'app in Silicon Valley e poi tutto roseo, è fondamentalmente falsa, che non vuol dire che non ci siano le eccezioni come in tutte le cose, ma è fondamentalmente falsa. La possibilità per voi di avere una startup di successo se venite da Stanford, che è l'università principale da Silicon Valley, sono decine di volte più grandi che se voi venite dall'Ungheria con la vostra valigia, anche se siete, diciamo, di pari talento o di pari capacità. Cosa significa fondare una startup negli Stati Uniti? Jacopo, naturalmente tu sei un esperto perché ce l'hai fatta, una startup l'hai creata appunto nel campo dell'intelligenza artificiale, così come è un esperto il personaggio che vediamo nel nostro primo ritratto, ovvero Mark Zuckerberg. Beh, questa immagine famosa è tratta dal film del 2010, The Social Network. Ecco, lo vediamo appunto, Mark Zuckerberg in accappatoio, pigiama, ciabatte, che va a bussare proprio alle porte degli investitori per farsi finanziare il suo progetto. Ma appunto è così facile trovare negli Stati Uniti qualcuno che non solo crede nella tua idea, ma che è pronto a metterci dei soldi e quindi eventualmente anche a perderceli. Allora, l'unica cosa che Mark Zuckerberg abbiamo in comune è il fatto che lavoriamo in pigiama. Beh, adesso penso che lui non lo faccia più perché è troppo importante, però io, tutta la mia esperienza a Tuso è stata in pigiama ben prima che fosse di moda col Covid, eccetera. Questo è l'unico punto di contatto. Detto questo, è un ambiente più favorevole al rischio, senza dubbio, soprattutto a Silicon Valley. Di nuovo, gli Stati Uniti sono un paese gigantesco con un sacco di diversità al proprio interno. La maggior parte delle tecnologie delle startup sono fatte in Silicon Valley, in parte un po' più piccola a New York, sono i due hub principali fondamentalmente, e c'è un po' più questa tendenza al rischio, quindi è abbastanza, è più facile, comparativamente parlando, trovare delle persone che sono disposte in qualche modo a investire inizialmente una piccola quantità di denaro, si parla di 25-50 mila dollari dal punto di vista di quello che si chiamano Angel, cioè persone relativamente facoltose che invece che metterli nel mercato azionario, nei bond, decidono di investirli insomma in qualche startup e così via. Quindi a questo punto di vista è un ambiente più favorevole. Però tornando un po' a quello che ho detto prima, raramente le persone daranno dei soldi a degli sconosciuti che sono appena arrivati con la valigia. Per lo stesso principio psicologico per cui questa cosa non accade a Parigi o a Milano o così via. In qualche modo il fatto che tu sia culturalmente affine al posto, o che tu insomma abbia in qualche modo un certo tipo di pedigree, o che in qualche modo parli la loro lingua, non solo in senso che parli l'inglese, ma nel senso che dici quello che le persone vogliono sentirsi dire, che è una cosa che va imparata, ovviamente favorirà la tua capacità di attrarre capitali. Ma tornando al film, al social network, è vero che le migliori idee vengono a seguito di una delusione amorosa come forma di riscatto? Non lo so perché non ho mai avuto grandi idee in vita mia, per cui non ho avuto... Ah non io non avessi mai avuto grandi delusioni amorose? No, no, è contrario, ho avuto un sacco di delusione amorose, ma pochissime buone idee, quindi no, nel mio caso sicuramente è falso, però nel senso c'è sicuramente una cosa che è vera, che è collegata magari non tanto alle delusioni amorose, ma a quella che io chiamo la cattiveria, c'è una cosa fondamentale, se voi vi ricordate Batman, che è uno dei miei film preferiti, perché è il mio supererò preferito, c'è un certo punto lui dice training is nothing, will is everything, il tuo addestramento non conta niente, l'unica cosa che conta è la volontà. Questa cosa in quanto tale è il 90% di una startup di successo, è la cattiveria. Condizione necessaria ma non sufficiente ovviamente, poi in realtà nel grande schema delle cose la fortuna conta molto più di tutto il resto quando fai una cosa come una startup, la fortuna non è che stai seduto e ti cadono le cose sul divano mentre tu stai guardando i Simpson, però una serie di condizioni che tu non controllerai mai, alla fine determini in modo straordinario, secondo me più della metà del tuo successo, ossia solo di qualche ogni persona è determinato fondamentalmente dal caso, poi ovviamente nessuno vuole ammetterlo. Quindi sei per la tesi V di Allen in sostanza. Nessuno vuole ammetterlo, che però è uno dei motivi per cui se ti piace fare aziende il modello startup è un buon modello, perché nella vita tu ne farai 5, 6, 7, 8, sapendo che 3, 4, 5, 6, anche potenzialmente 7 falliranno, non andranno male, ma l'importante è aver ragione una volta. Poi la grande idea del modello startup, che di nuovo non è necessariamente il modello migliore per tutto il mondo, però in Silicon Valley funziona molto bene, è io scommetto in 10 cose, l'importante è che quando vinco io sbanco. Questa è la grande idea. La legge della probabilità, tra l'altro, se aumenti le porte a cui bussi, è più probabile insomma che una almeno di queste si apra. Intelligenza artificiale. Apriamo un capitolo enorme, il capitolo insomma più importante anche della tua attività professionale. E per introdurlo io, ecco, faccio riferimento ad una fotografia che è assolutamente esplicativa. La vediamo, ecco, ovviamente molti a casa si chiederanno chi è quest'uomo completamente affranto. Ebbene, è il campione sudcoreano di Go, ecco, è una versione cinese un po' complicata degli scacchi. Ecco, campione sudcoreano mondiale che è stato sconfitto nel 2017 dall'intelligenza artificiale di Google, poi addirittura si è ritirato, ecco, per la delusione. Però ecco, questa è una foto simbolo, insomma, che sembra proprio rappresentare il trionfo della macchina dell'intelligenza artificiale sull'uomo. In questo senso, Jacopo, secondo te, aveva ragione Bill Joy, il leggendario programmatore della Silicon Valley, quando diceva che il futuro non avrà più bisogno di noi? Questa è una domanda quanto mai corretta in questi tempi. Da 2017 ad oggi la situazione, se possibile, è peggiorata. Nel senso, peggiorata per gli umani, nel senso, se facciamo squadra macchina, squadra umano, insomma. Nel senso che una serie di cose che nel 2017 erano ancora molto difficili, oggi per tutta una serie di motivi e di miglioramenti che sono stati fatti letteralmente negli ultimi 24 mesi, sono abbastanza semplici. Ad esempio la produzione di testo o di articoli che sembrano essere scritti da un umano, ma sono scritti in una macchina. La produzione di foto, immagini, fotorealistica, ma in realtà sono fotomontaggi fatti automaticamente dalle macchine, adesso sono fondamentalmente quasi alla portata di tutti. O comunque, nei prossimi anni saranno fondamentalmente alla portata di tutti. Questo è un problema o un'opportunità. È un problema nel senso che un sacco di lavori, un sacco di cose che oggi vengono fatte solo dall'essere umano, un domani possono essere fatte in collaborazione. Non è detto per forza che le macchine siano avversarie, appunto, cioè team macchine e team uomo, può anche essere che le macchine siano fondamentalmente un nostro aiutante. Pensiamo alle persone che oggi devono fare 50 disegni per fare una presentazione in PowerPoint. Se la macchina fa il primo schizzo per i primi 10 e ti aiuta, questo ha appena alleviato il tuo lavoro, insomma, di una percentuale significativa. Ovviamente regolamentare o capire come queste innovazioni poi finiranno davvero nella vita delle persone è una delle principali sfide, secondo me, del nostro tempo in quanto tale e anzi io vorrei che se ne parlasse un po' di più nelle agende dei politici, insomma, nei programmi dei partiti, in qualche modo nei talk show, invece che parlare, insomma, sempre delle solite quattro cose. Perché l'intelligente artificiale è potenzialmente un grosso rischio esistenziale. Ecco, ecco, a proposito di rischio esistenziale, proprio mi hai lanciato l'assist, come si dice appunto in gergo calcistico, nel senso che ecco c'è un grosso problema anche di etica del senso del limite, perché il pericolo appunto è che nella tua attività di programmatore le cose poi, insomma, ti sfuggano anche un po' di mano e che appunto le macchine e l'intelligenza artificiale prendano magari delle direzioni che tu stesso, quando le hai inventato, quando hai creato nuovi programmi, nuovi progetti, non ti aspettavi. Ecco tu questa questione etica del limite, te la poni? Allora, nel mio lavoro, che è molto più mondano e molto più noioso di quello di, insomma, dei ragazzi di Google che battono il campione mondiale di Go, sono l'intelligente artificiale sempre applicata, cioè non va a immaginarsi una persona, come dire, in un camice o in questo laboratorio da dottor no, insomma, dei fumetti, che in qualche modo sta cercando di creare una super intelligenza. Sono cose molto più banali, ma molto efficaci, come convincerti a comprare un nuovo paio di scarpe che tu non sapevi di volere, o aiutarti a trovare l'informazione che ti serve nel minor tempo possibile. Da invece accademico, in qualche modo da ricercatore, insomma, avendo la doppia anima di imprenditore e ricercatore, l'aspetto etico invece in qualche modo è un po' più importante, perché quando fai ricerca cerchi sempre in qualche modo di spingere un po' più il limite delle cose e di capire in qualche modo se quello che stai facendo ha senso oppure no. Detto questo, il maggior problema che abbiamo oggi non è che per sbaglio inventeremo Terminator. Siamo lontanissimi neanche da sapere come si fa. Il problema è che oggi, facendo cose molto più banali, come un sistema di raccomandazioni delle news, come il vostro feed di Facebook ad esempio, o di Instagram, possiamo inadvertitamente, e io sono anche pronto a concedere tutto il beneficio del dubbio del caso, creare grossi problemi su scala sociale. Possiamo influenzare le lezioni, possiamo creare crisi di identità negli adolescenti che guardano le foto di Instagram in qualche modo hanno un problema poi ad avere a che fare con il loro proprio sviluppo nei tempi necessari e così via. La maggior parte dei problemi oggi di intenzione artificiale sono esistenziali non nel senso che creeremo un robot che ci ucciderà con un laser, ma nel senso che la nostra società, la nostra democrazia, è continuamente testata da tutti questi nuovi sistemi che su scala planetaria possono avere conseguenze completamente diverse da quelle che i loro inventori, nelle migliori intenzioni possibili, hanno. Detto questo, poi non tutti hanno buone intenzioni. Cioè questo anche assumendo che tutti facciamo le cose con buone intenzioni, ma qualcuno chiaramente non le ha, o potrebbe non averle. Jacopo, abbiamo parlato di etica, di filosofia e chi meglio di questa figura che adesso ti presento per introdurre appunto questo blocco, ovvero Socrate. Perché Socrate? Allora per due motivazioni, innanzitutto una legata alla tua formazione, perché ce l'hai accennato, tu in realtà hai una laurea in filosofia e poi un altro motivo che è legato a Steve Jobs, che approfondiremo più tardi. Ma torniamo appunto alla tua formazione. Ecco, la componente umanistica in un mondo totalmente dominato dal numero e dall'algoritmo ha ancora un senso, ha ancora un valore? Assolutamente sì, però non eccedere dall'altra parte. Questa è una delle grandi discussioni. Io ho fatto anche liceo classico, quindi ho fatto liceo classico e poi l'auro in filosofia, ero indeciso tra filosofia e matematica, perché poi ho scoperto la logica all'ultimo anno del liceo e poi alla fine in Italia ci sono due facoltà in cui puoi fare un po' di logica e poi alla fine ho scelto filosofia da San Raffaele per una serie di motivi. Però non ci darei senza tante persone a dire no, è impossibile capire il mondo senza studiare il greco e il latino, piuttosto che è impossibile capire il mondo senza la filosofia, oppure no. Mi sembra un po' eccessivo, come eccessivo dall'altra parte, delle persone che dicono che la filosofia non serve a niente, non dobbiamo studiare la storia e così via. Io vengo, sono un raro esempio ormai in questo mondo di specialisti, di generalisti. Io mi considero, sono orgoglioso di essere un generalista. Dai miei tempi della scuola, ai tempi del Santa Fine Institute, dai tempi insomma di un'idea di un uomo che sa fare tante cose. Il fatto che io sappia la filosofia non mi precluderà sapere anche la matematica, il fatto che io sappia il greco non mi precluderà sapere programmare e così via. Quindi secondo me è importante sapere un po' di tutto perché più cose sai, più prospettive hai per capire il mondo e c'erano anche un sacco di persone con un raro in filosofia che hanno fatto grande successo in Silicon Valley. Paul Graham, il fondatore di Y Combinator, è un grande, è un ex filosofo, è un grande appassionato di logica. Infatti Y Combinator, il nome, viene dal Lambda Calculus, quindi viene dalla logica. È più interessante andare a cena con una persona che sa tante cose, questo senza dubbio. Dal punto di vista poi pratico e professionale, in realtà le persone, gli ossessivi, in realtà sono una grande risorsa non solo delle aziende, delle start up, delle università, ma sono una grande risorsa dell'umanità. In particolare io credo sia molto difficile essere al meglio del proprio campo se non si è davvero ossessivi in quello che si fa. Ho parlato di Steve Jobs e ho parlato di Socrate, adesso ti spiego perché facciamo un riassunto di tutti questi tre elementi. Perché Steve Jobs ha dichiarato, ecco questa sua citazione famosa, baratterei tutta la mia tecnologia per una serata a cena con Socrate. Ed è piuttosto insomma interessante, visto che appunto viene da un personaggio che ha lavorato in tutt'altro campo, in tutt'altro settore. Tu invece il tutto, il tuo sapere, per che cosa lo baratteresti? Ah sì, io posso scegliere con chi andare a cena, vorrò sicuramente a cena con Alessandro Magno. La grande, questa grande, insomma se parliamo di visionari, di persone insomma con grande capacità poi di realizzare cambiamenti su larga scala, Alessandro è sempre stato uno dei miei personaggi storici preferiti, mi è sempre incuriosito per molte delle scelte come delle decisioni strategiche che ha fatto. In più perché uno di questi personaggi è un po' larger del life, potevo dirti Gödel o Leibniz, ovviamente tra le persone più intelligenti sono mai siti, per carità, andrei a cena anche con loro. Però in qualche modo vorrei andare a cena con una persona che appunto, per il discorso di varietà, non so che poi ha fatto cose molto diverse che scrivere paper nella vita. Certo, ma tra l'altro pensavo anche una prima figura diciamo anche di globalizzatore. È la prima globalizzazione e l'idea di Alessandro di investire sulle infrastrutture, quando lui arriva al tesoro di Babilonia e lo usa per costruire le strade, l'idea di Alessandro di sposarsi con diverse persone di culture molto diverse, ovviamente Alessandro, insomma c'è questa idea che comunque la cultura ellenica sia superiore in un qualche senso, ma che la cultura ellenica deve poi in qualche modo, nei luoghi diversi, in qualche modo ibridarsi con altre culture, altre tradizioni, per fare un mondo globale che in qualche modo sia in armonia. Era una visione, se ci pensiamo, insomma, rispetto al mondo attuale in cui per qualche motivo stiamo tutti di nuovo tornando al proprio orticello. Esatto, infatti te lo volevo chiedere, secondo te il concetto di globalizzazione per come la situazione internazionale si sta evolvendo è in pericolo? Purtroppo sì, e io che sono vecchio abbastanza per ricordarmi quando bisognava andare in Francia con i documenti, no? Che c'era la frontiera. Poi l'hanno tolta, avevamo la moneta unica ed era questo grande periodo di grande euforia, insomma, di grande ottimismo per il futuro. Adesso che invece vedo, insomma, la vecchia Europa dove tutti si rinfacciano le cose, la guerra in qualche modo è ritornata purtroppo alle porte. Il mondo adesso invece mi sembra vivere una spirale di pessimismo da questo punto di vista, appunto. Sono cresciuto in un mondo in cui l'idea del diverso e della contaminazione erano in qualche modo valori quasi del tutto positivi, pur con le strutture del caso. Adesso mi sembra che ci sia un ritorno da una grossa parte della popolazione alla paura. Il numero, l'algoritmo ormai dominano tutti i settori della nostra esistenza e saranno destinati a dominarlo sempre di più. Tra i vari settori c'è anche lo sport. Ecco, ma questa montagna di numeri che sta appunto coinvolgendo e travolgendo il mondo dello sport deve però conciliarsi con il talento degli atleti e ne vediamo uno in particolare. Questo è un talento puro, assoluto, è il talento di Steph Curry, assoluto protagonista tra l'altro delle ultime finance NBA dove si è laureato anche MVP. Ecco, secondo te appunto il dato, l'algoritmo e arrivo a dire appunto anche l'intelligenza artificiale, finiscono per imbrigliare il talento degli atleti oppure per esaltarlo? Allora, assolutamente la seconda. Il numero, l'intelligenza artificiale, qualsiasi procedura di supporto alla decisione è solo una procedura di supporto alla decisione. Poi insomma in qualche modo l'ultimo pezzo di questa catena di azioni sta sempre nelle mani e nella testa del giocatore. Non immaginatevi che quando un programmatore scrive un programma per analizzare la pallacanestro come possiamo aver fatto noi all'Armani Jeans insomma ormai più di dieci anni fa, poi l'output di questo programma viene mandato come se fosse un paper scientifico al giocatore che deve studiarselo in qualche modo e cambiare la propria vita. Non è quello che succede, quello che succede è che questi numeri vengono mandati all'allenatore o insomma al gruppo di persone che seguono i giocatori che decidono selettivamente tra tutte queste informazioni qual è il modo giusto di passare una al massimo due informazioni che in qualche modo il giocatore può prendere in considerazione tra le altre 15.000 variabili che un professionista di quel livello riesce in qualche modo a tenere a mente mentre gioca. Ma questo non è diverso da quando lavorate in un'azienda molto grande, io lavoravo in un'azienda pubblica fino a poco tempo fa, quando voi parlate con l'amministra delegato non è che gli mandate un paper quando dovete spiegargli cosa deve fare o suggerire delle cose, quello che succede è che voi condensate tutto quello che avete fatto in questa analisi in tre punti, una piccola slide, un paragrafo e poi sta l'amministratore delegato utilizzare il vostro input insieme ad altri 15.000 che è il motivo per cui l'amministratore delegato per prendere le migliori decisioni possibili. È difficile pensare che i numeri ti possano in qualche modo danneggiare, c'è la famosa, una frase che a me piace moltissimo, è molto facile dire una bugia con la statistica ma è assolutamente impossibile dire la verità senza. E quindi questa cosa io ci credo moltissimo. I numeri non sono mai l'intera storia ma è molto difficile poi raccontare l'intera storia senza di essi. Ecco però dobbiamo dimenticare l'immagine insomma di Step Curry con il faldone, quindi di foglie, di dati da analizzare, gli arrivano semplicemente appunto quelle due o tre indicazioni che lui deve avere poi l'intelligenza naturalmente di applicare sul campo. Però comunque c'è insomma questa visione forse un po' antica sicuramente che un talento naturale all'interno di un riquadro diciamo matematico-algebrico ci sta un po' stretto. Invece no. Sicuramente è una visione romantica credo dell'esistenza, è una visione che comunque ha una serie anche di prove empiriche. Abbiamo parlato prima del campione di Go, nel documentario bellissimo che dipinge la vittoria di AlphaGo sul campione coreano c'è l'unica partita che il giocatore coreano riesce a vincere con una mossa, credo sia la mossa 79, bisogna riguardarlo. Però questa mossa che lui fa e che è talmente imprevedibile, sembra stata scritta da Hollywood, ma è talmente imprevedibile che la macchina la reputa quasi impossibile. E lui ribalta una partita di Go che sembrava persa contro la macchina facendo una cosa che la macchina fondamentalmente reputa completamente folle e lui invece vince la partita con questa mossa. Per cui è assolutamente vero che ogni tanto, come dire, la cosa più pazza può essere anche la cosa più efficace, però negli sport che sono molto ripetitivi, come la pallacanestro, come il tennis, ovvero dove la stessa cosa viene giocata diverse volte, ovviamente avere uno storico di quello che è successo nel passato è un'educazione molto importante di quello che succederà per il futuro. Quinta e ultima fotografia, come sempre, è la scelta dell'ospite. E tu, Jacopo, hai fatto un'ottima scelta, come possiamo vedere. Rimaniamo ancora in ambito sportivo? Beh, qui ci sono veramente dei miti assoluti dello sport. Da un lato Michael Jordan, dall'altro Roger Federer con Rafa Nadal nel giorno appunto dell'addio al tennis professionistico del tennista svizzero, un'immagine questa che ha fatto il giro del mondo e che ha commosso tutti noi. Ecco, perché l'hai scelta? Sono due dei più grandi campioni, insomma, di tutti gli sport e sicuramente nei loro rispettivi sport probabilmente i più grandi, insomma, Roger Federer e Michael Jordan. Ma quello che volevo focalizzarmi è la differenza in cui queste persone in qualche modo hanno lasciato il proprio sport. Da una parte c'è Michael Jordan, ovviamente, il più grande giocatore di palacanese di tutti i tempi, o uno dei più grandi, che nel discorso di accettazione dell'oro fame si mette a piangere, si commuove. È un discorso che tutti ricordano per la parte conclusiva, quello in cui Michael Jordan dice potrei tornare a giocare a 50 anni perché le paure come i limiti sono spesso solo illusioni. Tutti si ricordano in questa frase. Ma nessuno si ricorda, o comunque pochi si ricordano, di tutto del discorso che precede questa frase, in cui Michael Jordan, una delle persone più affermate del mondo e che non ha certamente bisogno di presentazioni, si sente in dovere di ricordare tutte le volte in cui le persone non hanno creduto in lui e alla fine è quello che ha avuto ragione. Se avete visto il documentario The Last Dance, probabilmente avete visto un po' di questa personalità in qualche modo molto, molto aggressiva di MJ. E' aggressiva dentro e fuori dal canto. E' fuori dal canto. Ogni cosa è un problema personale per Michael Jordan. Sì, una questione personale e quindi anche di rivincita su chi non aveva creduto in lui. Che errore che hanno fatto. Che errore che hanno fatto. Quindi Michael Jordan, super di successo, super affermato, super ricco, super tutto fondamentalmente, si sente comunque in dovere di utilizzare il momento in cui viene introdotto nel loro fame per ricordare di quelli che hanno dubitato di lui. Flash forward di qualche anno, Roger Federer qualche settimana fa si ritira a 40 anni, non solo in mezzo ai suoi amici, la sua famiglia, ma in mezzo ai suoi nemici. Roger Federer si ritira, insomma, tenendone la mano nella mano, il suo più grande nemico. Diciamoci la verità, quello che insomma... Esatto, se non ci fosse stato... Avrei vinto 40 slam, avrei vinto 40 slam e non avremmo neanche il dubbio che invece abbiamo, grazie a Nadal, che Roger Federer sia il più grande tennista di tutti i tempi, sia il più forte tennista di tutti i tempi, quantomeno. Invece lui, insomma, in qualche modo vive questo momento del ritiro con una serenità e con una... e con un'anche dolcezza, con un'umanità veramente incredibile. Scrive qualche giorno dopo essersi ritirato... guardate come mi sono ritirato, ho perso l'ultima partita del single, ho perso l'ultima partita del doppio, ho perso l'ultima partita di squadra e adesso non è anche più il lavoro e non sono mai stato così felice come ora. Ovviamente sono due campioni straordinari, inarrivabili, insomma, appunto, per una serie di motivi, ma il messaggio che volevo dare, e che la nostra società spesso non ci dà, è che si può essere campioni, essere Roger Federer e non dobbiamo per forza essere campioni, essere Michael Jordan, no? Anche i famosi titani di da Silicon Valley, Steve Jobs, per esempio, che abbiamo citato prima, che invece sono persone con questa personalità debordante e anche in qualche senso molto aggressiva, ma non è l'unico modo per essere persone di successo e credo Roger Federer sia un esempio straordinario di essere campione e anche umano, che ce lo rende ancora, se possibile, più simpatico. Jacopo, io continuerei a parlare per ore con te di Roger Federer, di Michael Jordan, ma anche di intelligenza artificiale, di Stati Uniti, sono stati tutti argomenti interessanti, quelli che abbiamo affrontato in questa chiacchierata di oggi, quindi grazie davvero per essere stato nostro ospite e grazie anche per esserti aggiunto alla nostra galleria di ritratti, perché questa è una sorpresa che noi facciamo a tutti i nostri ospiti di questa trasmissione, che si chiama proprio così, perché abbiamo anche proprio un ritratto disegnato dalla mano del nostro Elvis e ti chiedo tra l'altro, chissà se l'avrà fatto davvero lui, se l'avrà fatto l'intelligenza artificiale con questa caricatura? Se mi ha fatto magro l'ha fatto un essere umano, perché è gentile in qualche modo, è una cosa che le macchine non riescono ancora a fare, quello di essere gentili con noi, però chi lo sa nel futuro. Grazie ancora Jacopo Tagliabue per essere stato nostro ospite. Grazie a voi.